Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi voglio presentare Hit, gioco della Days of Wonder, che sono gli stessi dello spettacolare e bellissimo Memoir 44, Memoir 44, che mi è piaciuto da morire ambientato durante lo sbarco in Normandia. Oggi vi presento Hit, in questa edizione italiana, che vedete qui davanti a cura di Asmo d'Italia, che io ancora una volta ringrazio immensamente per la copia fornita e soprattutto anche per averlo portato in Italia, perché era un gioco che aspettavo da un po' di tempo ed è veramente molto interessante. Interessante per una persona come me, che dei giochi sportivi o delle sport in generale non interessa niente, ma questo è un gioco velocissimo, regolamento 4 pagine, se levate veramente la pagina del setup e la pagina finale dei punti, o meglio, che vi dice chi va a vincere la partita, 4 pagine. Regolamento velocissimo e all'interno della scatola non c'è soltanto il regolamento di base, ma c'è anche regolamento per il campionato e i tornei ed è veramente un gioco velocissimo, divertente e che farà sedere al tavolo chiunque. Gioco competitivo da 1 a 6 giocatori. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Hit, gioco della Days of Wonder, in questa edizione italiana come detto poc'anzi a cura di Asmo d'Italia, come riporta la scatola è un gioco da 1 a 6 giocatori, quindi partecipanti e corridori, dai 10 anni in su, perché è veramente ragazzi, ripeto, 4 pagine, è veramente semplicissimo, e della durata di una sessantina di minuti, sì, perché fondamentalmente c'è un po' da... ci sono da fare i vari giri del tracciato, che vengono riportati ovviamente sul tabellone, e c'è anche da vedere un pochino come funzionano le carte, che poi il funzionamento è molto immediato. Quindi diciamo che c'è un po' una parte di muovere la macchinina e una parte di letture della strategia. Comunque, per farvela, per spiegarvi il regolamento molto velocemente, avete il tabellone e ciascun giocatore le proprie carte, che è un mazzo da cui pescherà, fino ad avere 7 carte in mano ed utilizzare. In più a un mazzo Hit, come appunto riporta il nome del gioco sulla confezione, questo mazzo Hit può essere utilizzato per vari effetti, uno tra i quali ovviamente prendere velocità, premere sull'acceleratore del gas, prendere velocità e guadagnare un punto movimento, oppure alzare più di una marcia, perché il gioco di base dice all'inizio del proprio round si può decidere di alzare o scalare la marcia di uno, quindi le marce in tutto sono 4 e possono essere alzate, quindi se sono dalla prima marcia, nello stesso round posso alzare la marcia di uno e andare in seconda marcia, oppure da uno potrei passare direttamente a tre, alzando di due marce direttamente, ma in quel caso devo giocare una carta Hit. Cosa serve ad alzare le marce? Più marce avete, più carte potete giocare di quello che avete in mano. All'inizio del turno, dal vostro mazzo, dovete sempre pescare, cioè dovete sempre pescare fino ad avere 7 carte in mano. Andate a giocare tante carte quante è la marcia che avete inserito, e le carte hanno un valore che dà velocità o una miglioria. Quindi se io vado a giocare una carta e c'ho un valore di 3, un'altra carta e c'ho un valore di 3, e poi gioco una carta Hit, quindi le carte che giocate vanno sempre scartate, 3 più 3 della velocità più una di Hit ho fatto 7 di velocità, quindi mi muovo di 7 caselle. Come vedete il regolamento è semplicissimo. Quindi io prendo la mia macchinina e la muovo di 7 caselle. Il regolamento vuole che sulla pista ci sono sempre 2 caselle. Se c'è una macchina io la posso tranquillamente superare. Se ci sono 2 macchine che bloccano tutte e due le parti della pista, io mi devo fermare dietro, non posso passare perché mi bloccano la strada. Se invece finisco il mio movimento nella stessa casella, soltanto tipo sotto o sopra di un'altra macchinina, o leggermente dietro, sono in scia e posso avanzare di 2 direttamente avanti. Un'altra cosa bellina del gioco è che c'è lo stress. Lo stress praticamente sono delle carte che ti capitano in mano e fino a che non giochi non le puoi scartare. Quindi il regolo del gioco vuole che le carte che hai in mano non ti piacciono, scartale. Però non si possono assolutamente scartare queste carte stress e l'unico modo per levarsene di mano purtroppo è giocarle. E di solito le carte stress aumentano la velocità. Che uno dice, va bene, mi hanno fatto un favore aumentandomi la velocità, arrivo prima al traguardo. No, perché quando arrivate a una curva, ogni curva ha un valore di velocità. Se una curva ha un valore di velocità di 4, di solito hanno 3 però, mettiamo a casa hanno 4, arrivo in quel momento in curva, col mio valore di velocità di 7, mettiamo a caso che la curva aveva un valore e richiedeva un 3, e io ho 7 e lo supero di 4. Quindi arrivando così, o riesco a fare in quel momento lì una frenata, e quindi riuscire a ridurre la velocità, potrebbe anche essere scalando di marcia o cose del genere, oppure devo giocare delle carte per andare a fare un raffreddamento del motore, in quel momento lì. E anche il raffreddamento del motore di solito si fa andando in marce bassi, tipo la prima, massima, la seconda. Però se arrivo troppo veloce, andrò a sbandare, e per ogni punto che avrò sbandato, di cui avrò ecceduto la velocità, tipo chiedeva 3, e andavo di 7, di 4, vengono pescate delle carte. E quando la macchina sbanda, non soltanto si ferma, e deve ripartire dalla prima marcia, quindi deve iniziare in granà, usare carte, e tutto quanto, sperando di avercelo in mano, ma soprattutto verrà messa nella casella, poco prima della curva, e le altre macchine passeranno avanti. Quindi è un sistema molto bellino, che bisogna dosare le giuste carte, non conta andare velocissimo, perché se puoi anche superare tutti, ma poi arrivi in fondo alla curva, non hai carte, cioè non puoi raffreddare il motore, e ti capitano delle carte stress, che ti incrementano ulteriormente la velocità, rischi di sbandare, vai fuori pista, e prendi una penalità, e gli altri giocatori ti distanziano. Quindi, secondo me, è bene usare le carte giuste, al momento giusto, ed è un gioco dove vince il primo che taglia il traguardo. Ciascuna pista ha totte di giri, 3, 4, 5 giri, fatti questi giri, finita la partita. In conclusione, questo kit è un gioco veramente interessante, questo è il classico gioco davvero, alla Days of Wonder, per tutti, perché a volte sì, c'è qualche gioco un pochino più complesso, c'è troppo da legge sulle carte, quindi c'è da legge nulla, la carta ha un numero, oppure è una carta hit, che lo sai già cosa ti dà, ma di solito la carta ha un numero, quindi ti capita questa carta, con un numero di velocità, e tutto quanto, ti devi applicare e sommare, a meno che non ti capiti, una carta, come detto prima, stress, che ha un valore particolare, che ti richiede di andare a pescare, una carta o tot carte dal mazzo, per vedere quello che esce fuori, e magari ti aggiunge ancora ulteriormente velocità, e ti fa sbandare, però è sempre una somma, è sempre una somma di prendere le carte, e fare una somma, e vedere il livello di velocità, quindi è un gioco veramente interessante, ha la modalità già compresa nella scatola base, campionate e torneo, quindi è un gioco ragazzi, dai 10 anni in su, per me e per tutti, anzi potete provare a scala di un anno o due, per mettere un certo tavolino, magari dei ragazzini, a cui piace la formula 1, e poi è bellino la pista, le macchinine, cioè, si vanno a fare anche velocemente, delle belle miniature, con la stampante 3D, per magari fare la pista più bella, con le gradinate, cioè, è interessante, ecco, farci giocare, anche più giovani, ringrazio Asmod Italia, per la copia fornita, se lo volete ordinare, come sempre, primo link in descrizione, in sovimpressione, dalla gioco libreria Semola, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma se andate sul sito, e il prodotto è finito, oppure proprio non è in lista, mandate una mail al supporto, a Corrado, al proprietario della gioco libreria Semola, e fate presente, che arrivate dal canale di Coridan, se il prodotto, come detto poc'anzi, è finito, oppure proprio non c'è in lista, voi chiedetele, se è possibile averlo, e lui, se è, ovviamente un prodotto irreperibile, farà il possibile, per trovarvelo, al miglior prezzo sul mercato, e usate sempre, il codice discount, Coridan 7, discount Coridan 7, tutto scritto maiuscolo, per avere uno sconto del 7%, se superate la spesa di 79 euro, spese postali e corriere, gratuito in 48 ore, in tutta Europa, state in Francia, state in Germania, l'ordinate, vi arriva a casa, in 48 ore, gratuito, senza pagare le spese di corriere, quindi il servizio è eccellente, trovate un altro negoziante, che vi ordina anche giochi, fuori dalla lista, di solito vi dicono, no non ce l'ho, invece, gioco liberi da sema, la vi trova anche i prodotti, fuori lista, ovviamente, abbastanza nuovi, che si trovino facilmente, ma a volte ha trovato anche i prodotti, un po' più vecchi, quindi ancora una volta, grazie ad Asmod Italia, è assolutamente passata a pieni voti, è un gioco per tutti, ciao ragazzi, alla prossima, se questo video ti è piaciuto, lascia un like, e clicca sulla campanella, per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche, e non perderti nemmeno, un video in uscita, primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre, di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram, e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch, mano a mano, troverete la programmazione aggiornata, con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata, mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì, ciao, alla prossima,